Buonasera da Sarocco di Capodimonte, il Mundial League appena terminata la seconda giornata Champions League, la partita in programma era Real Nocelle a 3 di Copanatta, risultato finale 12 a 5 per il Real Nocelle di Capitan, Manuele Raia, migliore in campo, ecco la medaglia Grandissima prova tua e di tutta la squadra, anche se all'inizio ve la siete vista un po' Sì, comunque un po' brutta, un po' brutta, un po' brutta Che comunque è un'ottima squadra, con Luca Stricagnolanti, che comunque è un'ottima L'avventura, comunque parti contro i quattro gol che lui fa, però abbiamo giocato un'ottima partita, comunque volevamo riscattare la sconfitta la settimana scorsa Animate proprio dalla sconfitta con il Mater De della prima giornata Sì, un'ottima squadra, sicuramente sarà una delle candidate da arrivare in finale, però Adesso, dato che state in Champions, ogni partita sarà difficile Comunque sono tutte ottime squadre, dal Baku al Real Salute, comunque è un'ottima squadra Anche perché questa, il primo tempo è stata molto equilibrata, anche all'inizio del secondo tempo, un po' alla fine Quasi fino, diciamo, a un quarto d'ora dalla fine, è stata comunque in equilibrio Poi, comunque, Cantelmi è uscito fuori come al solito Gargiulo Gargiulo ha angacciato bene L'assenza della settimana scorsa di De Luca questa sera comunque si è visto che quando non c'è, è tutta un'altra storia in difesa Parliamo un po' della tua prova Ti sei piaciuto, perché l'hai detto pure prima dell'intervista Stasera sì, perché comunque ho parlato zero Zero? Ho giocato un po' di più a calcio rispetto all'altro Novità, novità Per questo è stata premiata questa cosa, più perché non ho parlato per come ho giocato No, no, diciamo che hai fatto una grande partita Speriamo di andare avanti comunque Senti, va bene, non ti dico il vostro obiettivo perché è sempre quello di vincere Vogliamo dedicare a qualcuno questa vittoria, a qualcuno che mancava Sì, alla squadra, a Spezzaferro che non c'è Giovanni, quando noi li vedremo a Giovanni che non... Spero settimana prossima, stasera va bene, abbiamo un impegno, un altro torneo Speriamo che... Alla tua ragazza che si chiama? Raffaele Un saluto a Raffaele, ciao ragazzi, grazie a tutti